Palazzo Madama fino al 6 marzo ospita la mostra Emanuele D'Azzeglio, il collezionismo come passione. È una piccola mostra dedicata a questa figura molto importante per il nostro museo, per la storia del nostro museo, perché fino agli anni, a metà del 70, dell'800, il museo era un museo prevalentemente legato al territorio, mentre Emanuele D'Azzeglio, con le sue conoscenze internazionali, porta al museo La Ribalta e lo trasforma in un grande museo di arti decorative. Emanuele D'Azzeglio era il ministro plenipotenziario per il governo italiano a Londra, quindi in una posizione strategica molto importante negli anni caldi, tumultuosi del Risorgimento e grazie a questi contatti che lui aveva in una città che era al centro del mercato dell'arte di allora, cioè Londra, da Londra invia opere di altissimo livello a quello che era allora il Museo Civico di Torino. Inizia con una serie di porcellane, di maioliche e prosegue con dei vetri dipinti e dorati che sono tutt'oggi una collezione unica al mondo. Quando si ritirerà a vita privata nel 1868, pian piano comincerà a interessarsi sempre di più alle sorti del museo e nel 1879 diventerà il direttore per 11 anni e in questi 11 anni cambierà le sorti, la struttura, la configurazione del Museo Torinese. Le opere o l'opera più significativa esposta? È difficile dire, ci sono un po' a gusti perché ci sono porcellane, vetri dipinti, pergamene, anche quadri, quindi lascio un po' il visitatore scegliere. Diciamo che abbiamo in mostra la scultura in porcellana, a figura umana più alta che esista, più grande che esista, che era nelle collezioni londinesi di Emanuele D'Azzeglio. Un'ulteriore sensibilizzazione verso l'arte per i torinesi? Sì, è anche di consapevolezza di un patrimonio che ha un valore sovranazionale, a volte dimenticato, ma che è assolutamente da riscoprire.